Il 28 gennaio di ogni anno si celebra il Privacy Day, ma che cosa si festeggia esattamente? La protezione dei nostri dati personali, ossia quelle informazioni che ci riguardano e che ci identificano in maniera diretta o indiretta, come il nostro nome, la nostra foto o il codice fiscale, è un diritto fondamentale, ossia un diritto che spetta a tutti. E anche se spesso non ce ne accorgiamo, ogni giorno abbiamo a che fare con questo diritto. Quando ad esempio navighiamo su internet e accettiamo i cookie, oppure quando compiliamo un modulo con i nostri dati, per una visita in ospedale o per sottoscrivere una fidelity card. Dal 2016 in Europa esiste una nuova legge sulla privacy, il GDPR, che prevede una serie di principi, diritti e obblighi per tutelare la nostra privacy, anche online. L'obiettivo del Privacy Day è di sensibilizzare la cittadinanza rispetto all'importanza di essere consapevoli dell'esistenza di questo diritto.